video ripresa in full hd 60 fps con honor view 10 light spostiamoci giornata uggiosa piuttosto oscuro vediamo una zona ancora un po più scura proviamo a spostarci andiamo a vedere un po l'autofocus non velocissimo vediamo quando rimette a fuoco nella norma direi spostiamoci facciamo la quadratura in esterna sembra che stia rinanzando a piovere un'altra volta ok rientriamo che vanno i riscaldamenti ok ciao